Amo, parte 2, parte 2, sempre da origami, via caracciolo. Le cartelline con tutta la penna dentro, ma fantastico, cartelline con le penne, ma fantastico, no vabbè. E questi sono due zainetti con le penne, vediamo, aprirne uno almeno, le facciamo vedere, no? Lo apriamo uno, ce n'è due, non c'è più niente, no basta, non c'è più niente, vediamo, vediamo, aprirlo, almeno uno, per farli vedere, queste sono, della tinta unita, stabile, ah, c'è una, ma chi c'è qua, chi è colla, chi è, una penna, vediamo, ne apriamo uno, che bello, ma c'è un zainetti da scuola? Sì, ah, le sacchie, quando ti scrivo all'assilo, le sacchie, bello, quando facciamo le gite, ci portiamo in pranzo, amò, che bello. E quello potto, però, eh, tu fai i panini, belli panini, grazie, grazie, grazie veramente, ma guardate quante cose fantastiche, ovviamente se vi servono tutti questi articoli, E ci sono anche altri, perché hanno, tipo questa lavagnetta, i pennelli, i colori, guardate quante cose, ragazzi, comunque se vi interessano tutti questi prodotti, Se vi interessano, trovate tutto da Origami, cartoleria creativa, belle arti, hobbistica, potete anche seguirli sulla loro pagina Facebook, TikTok, oppure Instagram, invia Miraglio Caracciolo, numero 29, a Catania, quindi mi raccomando, se vi servono sti cosi, mamma, guardate che meraviglia, ragazzi, guardate che meraviglia, Ora questo mi è arrivato a mettere tutti nello studio, scelta, nello studio, guardate, questo è mio, col giallo, vero, ma perché stavo usando una ciota tutti quanti nello scatolo? Perché sono niente, li dentro nel mio studio, nel suo studio, perché tu c'hai un altro studio? Certo, sì, vabbè ragazzi, vabbè Origami, per favore, me lo mandate un pacco solo a nome mio, grazie, lo presti, Nuncio, me lo mandate, grazie, e non lo fate arrivare qua, per favore, fatelo arrivare, chissaccio, da mia cugina, Quella che si deve sposare, così non dita niente, per favore, vabbè ragazzi, Origami, cartoleria Catania, via Caracciolo 29, itice, va cattato i cosi, certo, dite gli anzi, che vi mandano le morti di fame, così vi faranno sicuramente lo scondo, E aggiungo io, anche se non è così, mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo, un omaggino ve lo faranno, scelto, una penna, una penna, scelto, a tra poco ragazzi, ci vediamo tra poco su TikTok, Alle ore 20 e 3, qua in live, a tra poco, scelto, a tra poco, ma non sta mettendo questa lavagnetta, sta posando tutti i cosi, tutto mio, ah vabbè, tutto mio,